salve a tutte salve a tutti eccoci qua ecco anche tantissimi che stanno entrando ben arrivate ben arrivati a tutti quanti eccoci qua abbiamo isabella elisabetta vania maurizio carmello max federico e chiunque voglia poi venire può venire in diretta siamo all'edizione del 24 settembre del tg simone il tg delle edizioni simone e del sottoscritto simone chiarelli abbiamo tante rubriche abbiamo elisabetta che autrice ormai di tre rubriche sta un po fra un po sta monopolizzando e chiaremmo tg elisabetta non più tg simone perché abbiamo si può fare come prima rubrica si può fare motivazionale norme sentenze di simone anzani simone edizioni simone informa la ghigliottina giuridica un gioco di intelligenza ma anche di capacità di collegare concetti diversi nuova rubrica da oggi che ci accompagnerà nelle prossime edizioni è scrivi come mangi cioè semplificazione del linguaggio amministrativo applicato nuovamente norme sentenze oggi ne avremo tre interessanti aggiornamenti sui concorsi pubblici i quiz in diretta e il rebus giuridico interamente inventato da elisabetta che non è difficilissimo però è attinente a quello che stiamo facendo indovina la domanda quindi non indovina la risposta ma dai dalle risposte arrivare alla domanda studiare con i decaloghi la zip giuridica libri di studio quiz in diretta nuovamente le mappe concettuali norme sentenze la sai l'ultima un ultimo motivazionale per poi lasciarsi il tutto se ce la facciamo in 45 massimo 60 minuti allora partiamo con un bel invito a stai lontano dalle persone negative hanno un problema per ogni soluzione lo dico a chi frequenta i canali social dove sente quello no ma non devi partecipare a quei concorsi non si vincono mai sono tutti raccomandati è impossibile studiare tutte queste cose lasciateli stare ok se uno non vuole farcela non ce la fa se non si è positivi ovviamente non si riesce a puntare alla vittoria allora intanto ovviamente chi è in diretta può aprire il microfono intervenite quando volete e poi ovviamente quando avremo le nostre rubriche allora chi vuole venire in diretta può cliccare sul link che ho messo nella chat intanto siamo in diretta sia sul mio canale youtube che sul canale youtube delle edizioni simone e poi chi vuole può vederla ovviamente video registrata allora iniziamo con norme e sentenze di simona anzani che ci dice tar friuli venezia giulia sentenza del 2024 il principio della par condicio prevale su quello del favor partecipazioni l'uso del latino è frequentissimo nel diritto par condicio vuol dire che quando si fa una procedura selettiva che può essere un appalto che può essere i concorsi pubblici tutti devono partire dalle stesse condizioni i concorsi sono una competizione se uno parte 20 metri avanti che gara dei 100 metri è la gara dei 100 metri perché si parte tutti dalle stesse condizioni quindi la par condicio prevale su un'eventuale disposizione che vuole favorire comunque la massima partecipazione possibile quando quando questa diventa un vantaggio e anche il principio di risultato e della fiducia sono recessivi rispetto alla par condicio guardate questo è un tema importante perché noi ci stiamo spostando sempre più da un sistema normativo fondato sul regole a un sistema fondato su principi che è il sistema anglosassone che il sistema nord europeo comunitario più fondato sui principi meno sulle disposizioni e questo crea ovviamente un problema di bilanciamento ogni tanto troverete sentenze che vanno in una direzione ad esempio tutte le prime sentenze che puntavano sul principio di risultato come principio prevalente e altre che invece riequilibrano per esempio dice questa sentenza nell'ipotesi in cui il testo di un bando di gara di un bando di concorso stabilisca un'ambiguità allora attenzione perché perché il principio della par condicio non può sfavorire un partecipante rispetto agli altri e quindi recessivo il risultato e la fiducia non è detto che sia l'orientamento prevalente non è detto che valga in tutti i contesti è solo per sintetizzarvi questo concetto fondamentale di come ci stiamo evolvendo come sistema normativo è guardate è una rivoluzione epocale lenta ma epocale a cui stiamo assistendo anche grazie all'ordinamento comunitario e anche grazie io ringrazio con l'occasione tutti i partecipanti in diretta tutti quelli che mettono like tutti quelli che vengono insieme a me qui e ci mettono la faccia o l'icona o comunque la voce allora andiamo a vedere di cosa ci parla il sito del blog di simone concorsi che ricordo è la casa editrice che vende più libri in assoluto in italia per la preparazione ai concorsi e che ha anche un blog proprio di aggiornamento quindi vi consiglio di seguirli sia su whatsapp che su messenger che ovviamente sugli altri canali social per rimanere informati proprio fresca 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 agenzia delle entrate agenzia delle entrate ci sono due concorsi attivi agenzia delle entrate riscossione agenzia delle entrate diciamo gestione del personale o risorse umane 148 assunti sono uscite le date delle prove il 12 novembre 2024 quindi è quel famoso conto alla rovescia tutti coloro che si iscrivano ai concorsi studiano abbastanza tranquillamente poi arriva la convocazione che può essere a 30 60 90 giorni e inizia l'ansia perché ovviamente a questo punto si deve iniziare una programmazione anche degli studi ovviamente fatta in countdown quindi adesso la prima settimana faccio questa fino arrivare agli ultimissimi giorni chi di voi che è in diretta iscritto agenzia delle entrate ditemi un po c'è qualcuno anche in chat scrivete pure se siete iscritti vi ricordo che per chi volesse studiare per questo concorso c'è un pacchetto formativo circa 150 ore omnia 09 10 che è il quello che serve ovviamente prepararsi non bastano i corsi io ripeto sempre corsi manuali sono l'ideale poi sito internet e sito dell'agenzia wikipedia qualunque cosa va bene non esiste un limite massimo allo studio e vi ricordo appunto sui manuali il sito anche facebook dell'edizione simone dove trovate ovviamente tutti i manuali aggiornati e non aggiornati anche qui non non abbiate la fissa che il manuale deve essere per forza aggiornato all'ultimo secondo anche perché non lo sarà mai il tempo di stamparlo è uscito un decreto legge lo vedremo anche oggi nella sai l'ultima quindi quando un manuale è di due tre anni fa anche quattro anni fa insieme ad un corso può andare benissimo certo se avete l'occasione prendetelo aggiornato e non necessariamente del concorso a cui state partecipando un manuale per un comune vale per qualunque altro comune italiano quindi non ci sono questi vincoli particolari allora elisabetta sei pronta abbiamo preso una ghigliottina non difficilissima come funziona la ghigliottina vi dirò un nome per volta soprattutto che in diretta laura antonio federico max carmelo maurizio vania isabella ovviamente non elisabetta e una parola per volta partendo da nome nome qui non vi aiuta tanto voi dovete rispondere indicando qual è la parola di ambito giuridico che corrisponde alla parola nome e natura nome e natura è queste due è difficile qualcuno viene in mente qualcosa nominatività molto interessante non è non è la natura la natura delle cose il nome delle cose potrebbe essere ma cose non è giuridico qualcuno dice comune nome comune interessante natura comune codice 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 natura no no bene no bene no dettare dettare attenzione dettare e come legge maurizio maurizio ma è stato anticipato da anna online anna che ha detto legge e infatti dettare legge la forza della legge vai elisabetta commentaci te poi la riserva di legge ovviamente la legge della natura e nel nome della legge allora la legge della natura era difficile il nome della legge era interessante come dettare legge della natura come è difficile allora perché te vieni da quel mondo lì agrario agricola naturale però non è non è così immediata ma è la forza secondo me detta dettare dettare aiutato molto bravissimo maurizio qui in diretta anna online vedo che c'era insomma molte altre cose ma avremo altre altri diciamo giochi come vi dicevo da questa edizione abbiamo un nuova rubrica io insomma seguo da ormai da da anni cacchio il tempo passa e quindi ormai sono diventati 25 anni 24 25 anni il tema della semplificazione del linguaggio amministrativo cosa vuol dire che noi ci portiamo dietro un fardello di tradizione di atti amministrativi che sono nati nel 1800 quando c'era verdi che bellissime le opere verdiane ma usava un linguaggio che ovviamente non è il linguaggio attuale questo rischia di creare un problema dal punto di vista della comunicatività della trasparenza della pubblicità perché se adotto provvedimenti che durano difficoltà a capire che cosa vogliono dire ovviamente un problema di comunicazione allora esistono delle tecniche per migliorare nel linguaggio amministrativo esiste un progetto ministeriale che è stato attivato negli anni che si chiama chiaro sul mio canale youtube trovate vari video commenti che ho fatto su questi temi e per passare da un testo del tipo l'ufficio trattamento economico in indirizzo cesserà la corrisponzione degli emolumenti a decorre al 1 maggio 2001 a dal 1 maggio 2001 il nostro ufficio sospenderà i pagamenti che è lo stesso concetto dal punto di vista comunicativo detto in una maniera più diretta ora non è solo questo è la semplificazione del linguaggio questa è la banalizzazione adesso giochiamo allora preparate voi che siete lì con il microfono aperto vi chiedo chiederò io in ordine vai isabella come tradurresti il linguaggio meno burocratico la parola apportare correzioni correggere ok si può dire allo stesso modo ma portare correzione e peso elisabetta assumere informazioni informarsi informare a volte lo dice o cavolo quanto è semplice avvani a avanzare una proposta proporre proporre maurizio avere luogo svolgersi svolgersi oppure va bene anche svolgersi accadere forse accadere tenersi comunque accadere svolgersi va bene allora carmelo dare comunicazione avvisare 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 o comunicare certo elevare una contravvenzione questo è semplice max max è semplice sanzionare però sanzionare multare 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 forse è più diretto tecnicamente sbagliato perché la multa non è la contravvenzione ma dal punto di vista comunicativo ovviamente più efficace questo non toglie che io poi in fondo al provvedimento faccia una leggenda metto un asterisco una nota a piedi pagina dica attenzione multare significa elevare una contravvenzione però il linguaggio diretto allora laura laura far di vieto far di vieto microfono negare vietare antonino ogni tanto interviene aspetta antonino far di vieto e vietare ok fatto di vieto di fumare vietato fumare vai antonino questa la lascio a te muovere una critica ma come boh hai detto tutte quelle altre hai intervenuto tutte le altre ora non mi dici la tua dai muovere una critica dai fomentare fomentare ma anche criticare no? criticare allora questo era un piccolissimo esercizio solo per lanciare la lubrica la prossima volta invece vi metterò un testo scritto in giuridichese attuale preso da un provvedimento reale e poi vediamo come si riesce a essere più espliciti nella comunicazione con questo testo mi raccomando chi di voi vuole leggerlo non è un manuale lunghissimo scrive chiaro punto esclamativo funzione pubblica su google e trova il manuale da scaricare è del 2000 ma è ancora molto attuale ancora simona che ci delizia con norme e sentenze con consiglio di stato 13 settembre 10 giorni fa sulla inestricabilità del principio di risultato e di quello della fiducia notate come la giurisprudenza si stia sempre più orientando a trattare di questi temi e ci dice qui il linguaggio un po più criptico il principio del risultato principio ispiratore del nuovo codice e quello di fiducia che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della pia sono avvinti inestricabilmente qui sembra dante cioè legati da un vincolo indissolubile non vanno visti come principi separati ok quindi il fatto che io dialoghi con l'interessato e comunque rispetti le prerogative dell'interessato non significa che non debba tenere conto del risultato il consiglio di stato coglie l'occasione per evidenziare che un'eccessiva rigidità richiesta al momento della presentazione delle offerte un eccessivo formalismo delle domande svuotano di significato il principio di risultato e quello della fiducia quindi bisogna essere meno burocratici e non c'eravamo abituati noi eravamo abituati a pensare alle gare come quelle in cui sbagli una x e sei fuori ok sbagli ti manca un requisito e sei fuori vedete anche in questo caso un richiamo indiretto al principio della par condicio cioè laddove questi due principi si collegano alla par condicio significano anche garantire parità di partecipazione senza formalismi mi dite l'istituto giuridico che sta dietro questa sentenza qual è siamo negli appalti qual è l'istituto giuridico che coniuga questi aspetti legati al non eccessivo formalismo vediamo chi di voi gli viene a chi di voi viene in mente soccorso istruttorio bravissimo marco il soccorso istruttorio è quello strumento attraverso il quale se sono stato troppo formale ma tu i requisiti ce li hai e perché hai sbagliato a compilare perché ne dovevi barrare troppo eccetera eccetera prima di buttarti fuori vedo di recuperare la tua posizione ottimo 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 vedete i collegamenti quindi ragionamento per principi e poi invece prego prego chi voleva intervenire sì c'è stata una sentenza di ricerca se non sbaglio che destabilisce che il soccorso istruttori viene applicato anche alle procedure concorsuali per cui se un candidato sbaglia a presentare una domanda viene avvertito insomma che direttificare tale errore c'è alla giurisprudenza su questo aspetto è univoca e dice in tutti i procedimenti concorsuali quindi qualunque sia il procedimento concorsuale deve esserci uno spazio che si chiama soccorso istruttorio negli appalti prende il nome specifico di soccorso istruttorio in altri contesti può prendere il nome di richiesta chiarimenti richiesta integrazioni vale anche nei procedimenti ordinari la richiesta di integrazioni non è altro che un soccorso istruttorio mi dite e qui chiudiamo un altro istituto della legge 249 che ha lo stesso scopo vediamo se lo individuiamo preavviso di ricetto preavviso di ricetto e max vince il milione di euro messo in palio in palio quindi milioni di euro in libri e non in euro quindi dovrai darli a prendere quindi il preavviso di ricetto è una forma particolare ora il soccorso istruttore riguarda le procedure concorsuali dove ci sono tante persone insieme che concorrono il preavviso di ricetto è uno a uno cioè il singolo che fa domanda questa è la differenza fondamentale tra il 10 bis e il soccorso istruttore vedete quando a volte da una sentenza anche che può sembrare un po' stramba se ci sto un po' sopra inizio a lasciare libero il cervello di ragionare si può arrivare anche a tanti collegamenti ottimo anche online sto vedendo che stanno intervenendo proprio confermando queste cose allora andiamo adesso a suggerimenti sui concorsi pubblici IMS pubblicato il piano per 2500 assunzioni entro la fine dell'anno quindi ora i bandi poi saranno diluiti nel 2025 però chi di voi ha in mente di ok ripartiamo a studiare beh se si dedica un pochino alle materie IMS, INAIL, INLS ci sono varie enti che riguardano il mondo della previdenza della sicurezza sul lavoro che sono molto simili in termini di materie di preparazione riguardano sia diplomati che laureati questi concorsi agenzia delle entrate l'abbiamo detto pubblicato il calendario delle prove 150 assistenti al Ministero della Giustizia l'ASL di Salerno così 400 posti per infermieri 42 posti a Milano e poi 56.000 assunzioni nella scuola anche quello è un mondo a parte non solo dirigenti scolastici e DSGA ma anche ovviamente i professori vedo anche i vostri interventi all'università lingue ci insegnarono che il lato linguistico è proprio uno dei mezzi per stabilire volontariamente dislivelli fra amministrazione e utente vero l'hai detto con una formula linguistica non chiarissima però diciamo il concetto è quello se una gradatoria non viene utilizzata dall'ente nonostante la vacanza di posti che si può fare? fare concorsi in qualche altro ente non si ha diritto alla conservazione del posto scusatemi non si ha diritto all'assunzione chi è idoneo non ha diritto all'assunzione anche se quell'ente ha una carenza di organico che magari non può coprire perché? perché non ha capacità assunzionali esistono dei limiti alla capacità assunzionale oppure non vuole magari non vuole perché non vuole voi non vi vuole prendere in gradatoria perché vuole rifare un altro concorso per far vincere Tizio Caio può succedere è inutile nasconderselo può succedere non ci potete fare niente non si ha un diritto allo scorrimento della gradatoria se non si è vincitori gli idonei non hanno questo diritto e quindi si fanno i concorsi finché non si firma quel maledetto contratto prof pare che leggevo prego prego volevo aggiungere due anteprime vai sono state in questi giorni nominate le commissioni per i concorsi da per 88 assistenti ministero agricoltura solanità alimentare e foreste e per le posizioni presso l'agenzia per la cibersicurezza nazionale quindi le commissioni sono state nominate quindi a breve verranno convocate le prove ottimo ottimo queste insider training ci interessano ora poi sono notizie poi ufficiali perché poi il provvedimento di nomina delle commissioni vengono pubblicate quindi molto molto utile allora visto che sei intervenuta ti becchi il primo quiz vai Isabella allora la costituzione all'articolo 73 stabilisce che le leggi della Repubblica entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla repubblicazione salvo che il quindicesimo giorno successivo alla repubblicazione con la sola eccezione dei decreti legge il quindicesimo giorno successivo alla promulgazione salvo che il presidente il ventesimo giorno successivo alla repubblicazione cosa scarti dai forza allora scattiamo la C perché tra la promulgazione e l'entrata in vigore c'è la pubblicazione scattiamo la D perché è l'unica che ha un termine diverso dagli altri e scattiamo la B perché c'è la sola eccezione hai visto hai visto che Isabella che sapeva la risposta ma di tecnicale vi ha portato alla risposta esatta la D è la più diversa da tutti la si scarta subito la si vede proprio a colpo d'occhio ma anche la C che parla di promulgazione promulgazione è quella che fa il presidente della Repubblica è ok si va davanti ma poi se non va in gazzetta ufficiale non sarà legge nessuno e quindi rimanevano le due simili e nella B c'è sola eccezione quindi le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno se stanno zitte se dicono una cosa diversa può essere o prima o dopo o anche parecchio dopo ci sono leggi che entrano in vigore dopo un anno dopo due anni ci sono casi di questo genere bene allora Vania quando i decreti leggi devono essere presentati dal governo alle camere per la loro conversione articolo 77 A il giorno successivo alla loro adozione B entro 30 giorni della loro adozione C il giorno successivo della loro adozione D entro 15 giorni dalla loro adozione allora io scarterei il giorno successivo alla loro adozione punterei su entro 15 giorni o entro 30 giorni quale dei due a naso ti ispira di più scelerei magari entro 30 giorni entro 30 giorni qualcuno che è in diretta vuole intervenire per dare un'altra risposta ma no entro 30 giorni non credo perché se devono essere convertiti in 60 come fanno essere presentati i due 30 giorni e quindi cosa dici è una cosa veloce Max cosa dici è il giorno successivo per me il giorno su Max dice il giorno deve essere presentati non presentati 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 anche secondo me poi entro 30 giorni poi entro 60 giorni deve essere convertiti c'è troppo poco tempo ho capito ho capito Marco il giorno stesso Marco invece vi frega tutti vi ha fatto chiacchierare dopodiché è entrato in scivolata e ha detto il giorno stesso per cui voi se volete se a Roma andate vedrete quando il governo si riunisce il consiglio dei ministri molto spesso si riunisce la sera 18 20 a volte fa quasi mezzanotte quindi se alle 23 30 approva il decreto legge deve fare una corsa per andare al protocollo della Camera o al del Senato per andare a depositare perché la Costituzione avrebbe del giorno stesso perché? perché il decreto legge è efficace e quindi le Camere devono poter programmare subito quindi giorno successivo sembrava era lo specchietto per la lodola era molto molto insomma attrattivo anche 30 giorni diciamo poteva lavorano fino a così tardi no il protocollo il protocollo il protocollo sì i deputati i senatori generalmente no anche se ovviamente durante le sessioni di bilancio anche ora diciamo a parte le battute allora Carmelo ci sei? vuoi partecipare? sì eccomi l'articolo 10 della Costituzione stabilisce che l'estradizione dello straniero è ammessa anche per i reati politici la stradizione dello straniero non è ammessa per i reati politici l'estradizione del straniero è sempre ammessa indipendentemente dal tipo di reato o l'estradizione straniero è ammessa solo per i reati politici io penso l'estradizione l'estradizione dello straniero non è ammessa per i reati politici sei convinto? no effettivamente no però l'estradizione è sempre ammessa allora se l'attentatore se l'attentatore di Trump fosse venuto in Italia e gli Stati Uniti ci avessero chiesto l'estradizione gliel'avremmo data l'estradizione? eh no no? Marco Marco vediamo un po' Marco cosa ne pensa deve essere un perseguitato politico quindi ecco una persona che vive in un regime di tattoria che è il diritto d'asilo per eh sì per e allora qual è la tua risposta? qual è la tua risposta Marco? la B viene complesso tranne per reati che comprendono genocidio ok quindi l'estradizione del straniero non è ammessa per reati politici ma non si intende per reati politici l'attentato a Trump ok chi si trova in un regime dittatoriale e quindi scappa da quel regime magari anche cercando di eh combatterlo e poi si rifugia in Italia in questo caso e il nostro paese non consente l'estradizione a meno che non si tratti di reato di genocidio eh bene 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 ok la risposta è esatta e c'è stata l'occasione anche per approfondire questo grande Carmelo vi ricordo vi ricordo l'ho già pubblicato un post che fra l'altro l'ho scoperto anch'io di recente mi ero un po' distratto l'avevo visto ma l'avevo sottovalutato che grazie al PNR è stata realizzata una piattaforma gratuita del Ministero della Giustizia dove chiunque voglia o se è un comitato promotore può promuovere se è un cittadino semplicemente entrando facilissimo con lo speed può andare a votare per le proposte di referendum o le leggi di iniziativa popolare troverete tutte tutte quante sono una ventina io ho fatto accesso tre o quattro giorni fa ne ho votate ho aderito a cinque o sei e molto semplice leggete il quesito leggete chi l'ha proposto leggete cosa vuole raggiungere se vengono raggiunti il numero di firme sufficienti perché perché online ovviamente è più facile che raggiungere che cartaceamente quindi è un modo anche per rilanciare la partecipazione e la democrazia quindi vi invito a comunque andare a guardare per curiosità poi se decidete di sostenere o non sostenere la vostra scelta è molto interessante anche perché è il primo passo verso il voto elettronico non so se sarà breve però ci siamo ci stiamo arrivando a livelli di sicurezza tale da garantire anche questo meccanismo quindi provate ad andare e poi mi fate sapere se è stato interessante sotto trovate il link vi ho messo questo perché perché poi vedremo troveremo nei quiz un qualcosa che riguarda ma ora è il momento di elisabetta la quale hai realizzato te vero hai realizzato te il rebus ora lo faccio vedere made in elisabetta quindi onore a lei ah ma è questo qui ecco il rebus come funziona è stato facile trovate tre lettere la s la i e la m legate ad alcuni concetti e dovete trovare la frase che è fatta da due parole quattro parole due parole due parole sei parole vediamo chi di voi per primo riesce sia online che qui in diretta dai hai tolto il titolo tu vuoi aiutarli ho capito solo si ride però le altre non ho capito allora intanto abbiamo un suggerimento si ride perché s iride quindi si le prime due ride e poi ma si impara grande maurizio spiegaci perché perché iride nell'occhio si i masi di montagna accanto alla i si e la parata il portiere che para quindi si ride masi impara ok ottimo ottimo ne proporremo anche nelle prossime edizioni a proposito di edizioni vi ricordo e ringrazio l'edizione di Simone che ci dà il materiale per poter realizzare questo cd anche diciamo la collaborazione e ricordo i vari canali dove trovate tutte quante le informazioni compreso il canale youtube dove stiamo andando in diretta adesso ribaltiamo indovina la domanda partiamo da Laura Laura sei pronta insomma allora però ti sentiamo c'è una connessione scarsa proviamo un po' a vedere se riusciamo a sentire un pochino proviamoci allora le risposte sono la posizione al bene del vincolo per ordinato all'esproprio la dichiarazione pubblica utilità dell'opera la determinazione di identità dell'esproprio il decreto di esproprio B la posizione al bene del vincolo per ordinato dell'esproprio la dichiarazione pubblica utilità la determinazione di identità il pagamento di identità il decreto di esproprio e la definizione eventuali controversie D la dichiarazione pubblica utilità la determinazione di identità dell'esproprio e il decreto di esproprio secondo te di che si parla? di esproprio grandissimo vedete Laura è a livelli proprio ci è arrivata subito e quindi quale sarà la domanda? la domanda è come si procede in una situazione di esproprio no quali sono provvedimento amministrativo no quali sono le fasi del procedimento di esproprio cosa deve contenere il provvedimento di esproprio cosa deve contenere no ma quali sono i documenti che quali sono le fasi del procedimento espropriativo non i documenti perché alcuni di questi non sono atti o documenti sono fasi ok come il procedimento amministrativo iniziativa istruttoria decisoria come ha detto Giva Carmelo sembravano fasi del procedimento ma è del procedimento espropriativo quindi quali sono le fasi del procedimento espropriativo che sono diverse da quelle del procedimento amministrativo e sono la lettera quindi apposizione del vincolo che di regola viene in sede urbanistica la dichiarazione di pubblica utilità la determinazione dell'indicazione di esproprio e il decreto di esproprio non c'è la realizzazione dell'opera pubblica la B tra bocchetto perché quella è successiva non è più del procedimento espropriativo ma è della fase di esecuzione quindi anche in questo caso esercitatevi magari con qualcun altro per cercare la domanda attraverso le risposte può essere un utile strumento così come un utilissimo strumento sono i decaloghi cioè arrivate alla fine della preparazione di una materia o comunque a un buon punto cercate di riassumerla in dieci parole adesso vi chiedo a voi che siete in diretta e a voi che siete online di dirmi uno per volta uno ciascuno non più di uno ciascuno una parola che riguarda il codice di comportamento la più importante la più significativa quella che conflitto di interessi bravissimo aspetta carmela ha detto conflitto di interessi sicuramente è un tema importante non si può non rispondere a un orale a uno scritto senza aver detto conflitto di interessi poi procedimento disciplinare Laura procedimento disciplinare corretto Maurco dicevi non ti si sente bene regalie regalie ok quanti euro queste regalie quantifica 150 150 questo ci rimane impresso bene perché poi c'è da dare il resto capito se arriva quello con 500 euro c'è da tecnicamente se quello viene con la banconota da 500 euro dovete prepararvi il resto per rimanere nel codice tra l'altro io ho il corso nel codice di comportamento giorno 30 perché lavoro in via quindi formazione obbligatoria l'Elisabetta è andata su una cosa diciamo di nicchia ma importante la materia è una materia di formazione obbligatoria ok come ce ne sono altre poi responsabilità responsabilità disciplinare quindi come procedimento disciplinare responsabilità disciplinare poi dai qualcosa di inglese senza l'inglese ormai all'orale non si pigliano voti altri whistleblowing o whistleblower o whistleblower o si mettere anche come dice il cozzalone educazione 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 alla base di tutto super pantuflage pantuflage accountability sì poi altre altre cose accountability di PRD il 679 2016 sì accountability ne parliamo spesso sulla privacy ma vale in tantissimi contesti anche in quello dell'anticorruzione cioè la responsabilizzazione nel comportamento ad esempio nel comportamento privato quindi ci sono regole di comportamento privato social network ok il comportamento sui social network dirigenti allora vediamo un po' regolamento responsabilità civile responsabilità licenziamento ovviamente perché è la forma più grave di responsabilità onorabilità con onore e disciplina corte dei conti corte dei conti che ci sta sempre dappertutto bravo Maurizio l'RPCT responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza bene recepimento con l'OIV 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 attenzione allora che non è una marchia di olio richiamo verbale l'UPD il richiamo verbale le frustate insomma ci sono tutta una serie di temi allora frustate giuridicamente intese nel senso allora sempre inventata applicata diciamo al caso concreto del diritto da Elisabetta abbiamo la zip giuridica spiegaci come funziona la zip Elisabetta allora abbiamo due parole e altre due che le collegano praticamente dovete trovare le parole che collegano comunicato il territorio c'è una parola sotto nazionale comunicato nazionale oppure stampa è nazionale non ho capito stampa è la prima è nazionale comunicato comunicato stampa e poi nazionale territorio nazionale stampa nazionale oppure comunicato ufficiale comunicato ufficiale govern del territorio governo del territorio corporations mounting comunicato ufficiale di governo del territorio interessate partendo dal basso quindi territorio governo quindi governo del territorio quindi cosa unirebbe governo e comunicato allora la u ufficiale quindi ufficiale e poi territorio il sindaco il sindaco ufficiale di governo e il governo del territorio fra ufficiale governo era un pochino 54 del tuo grande carmelo che si è un ufficiale di governo ma te c'hai dei neuroni che non è che necessariamente sono i nostri è ok lo dico lo dico ad uso degli specialisti del settore almeno un 5 per cento della popolazione a questi problemi allora basta scherzare ora si fa le cose serie vi auguro la pioggia nei vostri territori se non prendete il libro ah no ora no anzi vi auguro il sole che andiamo verso l'autunno allora vince un concorso pubblico diciamo è ringrazio tutti quelli che lo consigliano lo usano e insieme ai manuali seri diciamo questo è più di struttura i manuali di studio a ve ne consiglio tre usciti recentemente delle edizioni simone sono l'impiegato comunale che è un classico vi faccio presente che dall'edizione scorsa ha i QR code per cui con il lo smartphone inquadrandoli sia avviano dei video su youtube elaborati dall'intelligenza artificiale quindi è un modo anche per avere un ulteriore approfondimento oltre al fatto che affronta la maggior parte delle materie sono 1400 1500 pagine è un manualone ma per la preparazione concorsi negli enti locali comuni province è diciamo fondamentale lo consiglio a tutti i livelli è anche per i dirigenti così come consiglio per chi si prepara non solo in banca d'italia ma nei concorsi dove si parla di economia il manuale per gli esperti di banca d'italia dove c'è politica monetaria mercati sistemi di pagamento la valutazione dei rischi la performance diritto degli intermediari e poi sempre banca d'italia per chi vuole prepararsi in inglese perché l'inglese ovviamente molto molto più complesso quindi per chi ha concorsi dove l'inglese non è un pro forma come nella maggior parte dei concorsi ma è un qualcosa di più il manuale di preparazione in inglese previsto per la banca d'italia che quindi anche diciamo aspetti tecnici può essere quello suggerito quindi vi consiglio come detto non serve che prendiate il manuale specifico per il vostro concorso guardate le materie che ci sono se la maggior parte ci sono può essere utile prendere uno di questi torniamo ai quiz in diretta che federico preparati che ti domando il potere di iniziativa legislativa popolare quello per il quale si va su quel sito con lo speed e si può votare quello che ho fatto io nei giorni scorsi viene esercitato attraverso la presentazione di un progetto da parte di almeno cinquecentomila elettori cinquemila elettori cinquantamila elettori centomila elettori chi scarteresti così ha sensazione cinquemila elettori e centomila elettori bravo centomila subito perché vedi inizia con dieci gli altri centomila troppo bene abbiamo un fermo immagine di federico che mi sa che gli è saltata la connessione allora vania aiutiamolo ha chiesto l'aiuto federico sei tornato poi dici sì sì sono tornato eccomi eccomi allora tra cinquantamila elettori cinquecentomila elettori perché c'era qualcosa che riguardava anche il referendum come assonanza come ricordo vago con quelle erano cinquecento cinquecentomila firme direi cinquantamila elettori allora bravo la c perché il progetto di iniziativa popolare che significa doverlo scrivere farlo leggere e proporlo cinquantamila è tanta roba e quindi è la risposta corretta mentre la domanda ai sensi dell'articolo settantacinque della costituzione carmelo da chi può essere richiesto il referendum abrogativo di una legge cinque consigli regionali e cinquantamila elettori cinque consigli regionali e cinquecentomila elettori quattro consigli regionali e un quinto dei componenti ciascuna camera o dal presidente della corte costituzionale no anche no se vuole se lo abrogata solo se vuole esatto ma io direi da cinquecentomila elettori mi sembra un po troppo e quindi e quindi io direi la a e no era quel ragionamento che federica siccome mi ricordo che che uno era cinquantamila uno era cinquecentomila adesso non ce lo dimenticheremo più proposta cinquantamila referendum cinquecentomila tra l'altro notizia di oggi quindi notizia freschissima allora macches in base alla 241 che cosa si intende per accordi integrativi gli accordi stipulati in sostituzione del provvedimento contratti ad oggetto pubblico accordi conclusi tra amministrazione e agente interessati per determinare il contenuto del provvedimento dunque allora contratti ad oggetto pubblico no accordi conclusi tra amministrazione precedente interessate a fin determinare il contenuto del provvedimento quello questo è sostitutivo però anche accordi perché sono accordi integrativi e sostitutivi ora quando sostituiscono l'importante è prima di lunedì prossimo perché poi devo preparare il prossimo tg accordi stipulati in sostituzione sono accordi sostitutivi quindi non sono integrativi sono sostitutivi spara spara una lettera c c ed è c perché ma perché tu avevi letto per determinare il contenuto del provvedimento pensando che fosse sostitutivo invece solo il contenuto il provvedimento poi c'è quindi sono integrativi perché integro il contenuto che poi finirà in un provvedimento amministrativo mentre la sono quelli sostitutivi bene 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 allora elisabetta i beni demaniali possono appartenere anche è reciproca possono appartenere anche a privati non possono comprendere l'universalità di beni mobili possono appartenere solo lo stato a regione comunale province o possono appartenere solo regione a statuto ordinario allora scartiamo il fatto che non possono comprendere l'universalità di beni mobili perché per esempio la fauna e i quadri potrebbero essere dello stato compresi i quadri che riproducono fauna se sono dei maniali ci sono quelli non del patrimonio ma proprio del demanio possono appartenere solo allo stato e le regioni comuni e le province e quindi la accendiamo quindi questo uno dei casi in cui la parola solo in realtà è corretta fra l'altro perché sono le due simili è la c e la d prevale quando due sono simili anche sono la parola solo generalmente per il tecnicale sono la risposta corretta è ovvio che se sono dei maniali per definizione non possono appartenere ai privati se non quelli del demanio accidentale quelli del demanio accidentale e se noi non ho capito questa cosa perché se è demanio non dovrebbe però se è demanio accidentale è demanio se non è se sono privati non dello stato e sono privati ma quando è che un bene demaniale può essere può appartenere quando viene demanializzato quando viene demanializzato che non è una bestemmia ma è una procedura amministrativa però non è demaniale a quel punto quindi ora fa filosofia e sta ora deve essere o non essere allora velocissimi perché abbiamo sforato i 45 minuti mappe concettuali allora studiare con i decaloghi fondamentale studiare con i vostri appunti fondamentale chiedere online chi mi passa gli appunti di qualcosa è una stupidata enorme non lo fate ma le mappe concettuali si trovano anche online vanno usate alla fine della preparazione perché intanto bisogna saperle scegliere faccio un esempio abbiamo parlato dei beni demaniali o dei beni pubblici i beni pubblici io trovo mappe concettuali che possono riguardare l'aspetto giuridico vedete la parte in fondo l'ultimo rigo beni pubblici un semplice rigo non mi dice nulla questa mappa concettuale riguarda soprattutto la parte economica beni di consumo beni di produzione o la parte diciamo tecnica non è la parte giuridica ci interessa poco già qui ci interessa perché i beni pubblici si dividono in demaniali patrimoniali a loro volta disponibili e indisponibili mi dà poche informazioni però vedete fatto bene dal punto di vista schematico se voglio andare oltre e capire che i beni demaniali sono necessario o accidentale e le categorie dei beni demaniali necessari militare idrico e marittimo e accidentale con le varie tipologie vado oltre se poi voglio diciamo un quadro ancora più complessivo limitatamente agli aspetti giuridici ecco la mappa concettuale non ne basta uno spesso se le volete cercare online se ve le fate da voi è ancora meglio ok questo è il consiglio che vi do e qui abbiamo poi quella probabilmente la più completa e più complessa chi di voi pensa di studiare i beni con questa senza aver studiato i beni non ci capisce nulla quindi questa è la fine del percorso ultima norma e sentenze cassazione penale la falsa attestazione del pubblico dipendente che striscia e va o non striscia va a mangiare a casa anche se riguarda poche centinaia di euro è un reato di truffa aggravata recentissima sentenza per la quale come dicono i francesi sono cavoli amari quindi attenzione ovviamente non l'errore che può accadere striscio sento un rumorino pensavo di aver strisciato in realtà ho sbagliato ovviamente torno appena me ne accorgo correggo subito la timbratura attenzione perché su questo ovviamente c'è controllo massimo allora siamo arrivati alla fine con l'assai l'ultima che riguarda le novità dell'ultimo momento ho fatto un video commento su questo decreto decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali regolamento sulla patente per le imprese nei cantieri mobili e temporanei è stato istituito un sistema simile alla patente a punti per la guida dove le imprese dal primo di ottobre devono dotarsi di questa patente online quindi ci si registra sulla piattaforma si acquisiscono una serie di punti al massimo 100 ora per avere 100 ce ne vuole tanti e si perdono via via che succedono delle cose quindi irregolarità incidenti non gravi sul lavoro perché se sono gravi si perde completamente ovviamente l'intera patente e il decreto appunto definisce queste condizioni che diventano obbligatorie quindi dobbiamo andare a verificarle anche da parte delle amministrazioni in sede ad esempio di procedure di gara in sede di punteggi premiali in sede di altri elementi per le quali potrebbe rilevare rilevare quindi su questo poi faremo un approfondimento per capire in che misura si possono richiamare nei regolamenti negli atti nei provvedimenti delle amministrazioni per chi di voi fosse interessato sul mio canale c'è gratuitamente il video commento articolo per articolo al decreto 18 settembre 2024 sulla patente per i cantieri domani non so se riesco domani ma nei prossimi giorni farò il video commento sull'ultimo quaderno ANCI che è stato pubblicato un documento molto molto interessante che io normalmente commento insomma i quaderni ANCI sono strumenti importanti di lavoro allora prima di finire diciamo con le nostre frasi non è tanto motivazionale questa è più una tiratina d'orecchie lascio la parola finale a Laura se vuoi salutare dire fare l'importante è non ringraziare Simone Chiarelli né niente vai allora io avrò un orale il 12 novembre e ringrazio naturalmente lei perché ho iniziato questo percorso proprio grazie ai suoi video altrimenti sarebbe stato difficile e spero di passare l'emozione che è una cosa difficile oltre al fatto di dover studiare e posso dire che come dice lei si può fare basta crederci e volerlo io penso lo puoi vattelo apprendere perciò diventava del mio motto bravissima consiglio tecnico inizia a videoregistrarti mentre ripeti una domanda dell'orale ti fai la domanda l'accesso documentale prendi lo smartphone ti videoregistri non ti riguardi subito ti riguardi dopo una quindicina di giorni e vedrai la differenza come apprezzerai gli errori l'esposizione il fatto che mentre ripeti fai suoni gutturali strani ti sei dimenticato alcune cose che dopo 15 giorni sai allora se nel momento in cui ti risenti dopo 15 giorni vedi queste differenze stai studiando bene quindi l'orale l'auto orale il sentirsi non immediatamente è uno strumento fondamentale di preparazione oltre se uno vuole le lezioni individuali perché nell'orale un 30% è la preparazione un 30% è l'esposizione quindi la capacità di dire cose o sapere mandare il discorso dove si sanno quelle cose giolli super giolli e poi c'è anche la componente ovviamente di sorte che non è così può incidere è ovvio se estraggo la domanda l'accesso documentale è un conto se estraggo la domanda il fondo rischi di svalutazione insomma è diversa bene federico a te la parola accendi il microfono andiamo intanto a max mentre federico risolve problemi di connessione vai max no niente non volevo ringraziarla per tutte le cose fantastiche che ho appreso da quando la seguo quindi non la ringrazio ma l'hai fatto carmelo io non volevo ringraziarla per quanto l'ho seguita e sono entrato in pubblica amministrazione quindi ho firmato il contratto il primo di agosto e quindi dico a tutti di non mollare e crederci appunto se ce l'ho fatta io che ho 44 anni facendo un operaio quindi quindi non avvenetevi mai però il dubbio il dubbio che sorge a noi guardando un posto fisso che entra il primo di agosto come fai a essere abbronzato se sei entrato il primo di agosto e non hai le ferie ma lasciamo no no lasciamo questa domanda lì nell'etere federico vai federico no federico è frizzato nel senso è bloccato all'immagine vania vai a te per i saluti sì la ringrazio tantissimo anche se non si può ringraziare ma comunque grazie perché anche con il tg si ripassano tante cose vai isabella autunno caldissimo da valle della disperazione profonda però teniamo tutti duro perché che non vince va bravissimo federico è tornato vai federico per un saluto pronto si vai mi sentite sì grazie è sempre un piacere partecipare sempre a questo momento di approfondimento e spero presto praticamente io sono a tempo determinato in un'amministrazione continuando a studiare sto trovando molto interessante e formativo il pacchetto di diritto tributario del dottor giampaolo soru si bene ottimo ottimo grazie federico allora poi lascio la parola finale elisabetta che chiuderà prima non aver paura di lottare per ciò in cui credi anche se questo significa lottare da solo pensando ad alcuni che dopo aver vinto mi scrivono dicendo ma io non mi trovo bene ma io quasi quasi chiedo la mobilità chiedo il trasferimento chiedo no no io ve lo sconsiglio se uno entra nella pubblica amministrazione pensando di cercare quel che vuole che vuole il posticino per bene fare le cose che gli piacciono o magari si trova un ambiente ostile perché capita un ambiente ostile si lotta devono andare via quegli altri non noi ok si rimane lì io per esempio ce l'ho a 30 chilometri di distanza e quindi provare certo uno poi si deve avvicinare un altro discorso ma lasciare perché l'ambiente non ci piace mi hanno mandato all'anagrafe preferivo un'altra cosa questo è sbagliato come concetto si va a servire la nazione per quello che ci chiedono e soprattutto se l'ambiente ostile si lotta anche da soli contro tutti quanti perché perché e lo dico se i miei colleghi non timbrano quando vanno a mensa oppure fanno delle cose strade sul procedimento io no e se capita e lo so lo segnalo whistleblower perché queste cose che studiamo non sono astratte non sono solo da concorsi a costo di dire mi sono giocato la carriera non importa non si va per la carriera non si va per i soldi non si va per lo stipendio e quindi ricordandovi l'appuntamento del primo ottobre elisabetta concludi prima della sigla vai ciao a tutti e mi raccomando avanti tutta avanti tutta qual cosa sarà la dacatra Grazie a tutti.